Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi d'ICS vera e professionale con la P maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad un signore della Svezia svedese di Stoccolma che mi fa questa domanda, dottore ma gli Audi MP3 d'ICS che probabilità hanno di risolvere da soli il mio problema. Non mi ha specificato quale problema. Io posso raccontarti la mia esperienza, è logico che l'Iter sono Audi MP3 d'ICS unici al mondo e sessioni online di iplosi d'ICS vera e professionale in qualsiasi parte del mondo, però ti posso garantire che centinaia di persone anche con un solo Audi MP3 d'ICS hanno risolto il loro problema, seguendo le istruzioni molto facili, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro. Le probabilità vanno dall'ottanta e per alcuni casi, per non dire molti, anche fino al cento per cento, anche con un solo Audi MP3 d'ICS, senza neanche fare sessione online di iplosi d'ICS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Perché ti dico ciò? Perché chi conosce le probabilità e il tuo subcosciente, il tuo pilota automatico, qua dentro sta la soluzione al tuo problema. Perché le mie parole presenti negli Audi MP3 d'ICS naturali, trasparenti, comprensibili, senza nessun effetto collaterale, ecco perché una delle caratteristiche dell'ipnosi d'ICS vera e professionale a V maiuscola unica al mondo e che non ha neanche lo 0,0001% di effetti collaterali e inoltre si usa anche per le persone come i tuoi cari che non vogliono essere aiutati o che non possono essere aiutati. Per cui ti posso garantire che dalla mia esperienza diretta e indiretta da più di 12 anni, tu considera che l'associazione Ippnologi Associati sono più di 100 anni che esiste e che è stata fondata da due grandissime dell'ipnosi vera e professionale a V maiuscola, la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelangelo Garai di Los Angeles Beverly Hills. Però mi sono accorto che molte persone scaricando online l'Audio MP3 d'ICS che può essere non mal di testa, non mal di schiena, ego entusiasmo, no timidezza, no ansia, no panico eccetera eccetera hanno risolto il loro problema semplicemente con uno o più Audi MP3 d'ICS senza neanche fare sessione online di Ippnologi d'ICS vera e professionale. La mia mission qui non è quella di venderti Audi MP3 d'ICS perché gli ho ceduto tutti i diritti all'associazione Ippnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills e neanche di farti sessione online di Ippnosi d'ICS vera e professionale che sono al momento sospese per problemi di tempo e di impegni per cui se tu vuoi la presenza fisica ti invito ad andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola della tua zona, della tua città, dovunque tu abiti nel mondo a patto che questo signore, questo professionista abbia già affrontato casi come il tuo per non spendere soldi ad Mincam inutilmente. Però ti posso garantire che pur non usando il metodo d'ICS unico al mondo questo professionista ti può aiutare moltissimo, non sono geloso, puoi andare, puoi fare, puoi veramente ottenere ciò che altrove tu non hai ottenuto senza se e senza ma, d'accordo? Non devi credere a nessuna parola del sottoscritto, non sto qui a convincerti, a farti, però io mi rivolgo soprattutto a quelle persone, bambini, adulti, anziani, che le hanno provate tutte, ma tutte, tutte, tutte e non vedono fatti veri, perché il sottoscritto è un fedele seguace di santo o maso, se non vedo, se non tocco, non credo. Per cui ti capisco se sei scettico, se sei scettica, se hai dubbi mi puoi scrivere un'email da qualsiasi parte del mondo dove risiedi, abiti, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e miei impegni e ti posso garantire che tu troverai la soluzione. Come l'ho trovata io personalmente nel 2008 con mio padre e anche con il sottoscritto avevo tantissimi problemi, problemi emicrania cronica da più di 30 anni, anzi avevo un peso al petto ogni mattina quando mi svegliavo, le mani mi tremavano per il nervosismo, lo stress e compagnia bella, l'insoddisfazione mi mangiava, perché soprattutto quando ero uno studente lavoratore senza una rintasca vicino a Milano, in quel di Modena, non mi sentivo realizzato, che ho fatto mille lavori umili e adesso grazie a Dio, grazie alla mia mente, al mio subconscio, all'ipnosi di CS vera professionale, la via maiuscola sto bene per le prossime 37 vite, non lo dico per vantarmi, attenzione, perché qui non vogliamo dare atito a dubbi, ma per ispirarti che la tua mente e il tuo subconscio può fare il miracolo della tua stessa mente, il miracolo della mente lo fa la tua mente, il tuo subconsciente, le mie parole, gli audio, i miei B3 di CS fanno da guida, ma sono suggestioni, parole, di CS uniche al mondo perché tarate, sono pesate su migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo, nella nostra associazione Ippnologi Associati ho messo circa un 30%, perché da più di 12 anni mi ipnotizzo H24, anche adesso sono ipnotizzato, anche se a te hai sedicenti esperti di ipnosi non sembra, perché lo faccio, perché il metodo di CS non ti ruba tempo, non ti stressa, non ti fa mettere gli auricolari, non ti impegna, devi soltanto seguire le istruzioni molto facili, facilissime alla prova di un nonno, alla prova di un idiota, alla prova di un pigro e vedrai luce, 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 perché ciò che la tua mente ti ha causato, il tuo subconscio ti ha causato direttamente e indirettamente, può anche eliminarlo come per magia, la magia della tua mente. Funzioniamo così, purtroppo i poteri forti per vari motivi di interesse economico soprattutto e non solo, di potere, non ci insegnano queste cose a scuola, ci vogliono pecorelle, deboli, affrante, perché più debole sei, più sei manipolabile con la paura, più altri, la famosa minoranza, guadagna, specula, manipola sulla maggioranza, ok? L'essere umano è così, ma se tu conosci il potere che sta qua dentro, il tuo potere mentale, tu sarai libero, libera e potrai dire montagna spostati e la montagna si sposterà, senza se e senza ma, ok? Ti posso garantire che l'ipnosi di CS vera e professionale V maiuscolo non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi paura, l'ipnosi da film e neanche con la stessa ipnosi, pur ottima, conformista commerciale di Milton Erikson, Dave Hellman, Brian Weiss, che sono bravissimi, ripeto, ottima, da cui sono partito per poi distaccarmene nel 2008 per sposare il metodo della dottoressa Rina Brunini e del professor dottore Michelangelo Garai di Los Angeles Baby Hills, sul quale ho fondato il metodo di CS unico al mondo che veramente non ha uguali, sia come procedura che come suggestione di CS, che non trovi in giro, da nessuna lingua in nessuna parte del mondo, ok? È un qualcosa di veramente unico e professionale. Già il fatto che non ti rubi tempo la dice lunga. Poi considera che l'ipnosi vera e professionale a V maiuscolo è riconosciuta come medicina alternativa dell'Associazione Medica Mondiale nel 1958 e della stessa chiesa con Papa Pio IX nel 1847. E lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, il Papa Polacco, si ipnotizzava per imparare le lingue straniere. Ne conosceva più di 12, come ha dichiarato nel suo libro autobiografico, un libro così grosso che vi invito ad acquistare e a leggere. E inoltre, se non sei ancora contento, puoi andare su riviste scientifiche internazionali dal titolo The Life e The Lancet, che le trovi su internet accreditatissime e troverai rapporto ipnosi vera e professionale e casi su di tutti i generi sugli esseri umani, dove non si viola la privacy in quel caso. Quindi puoi andare a vedere che ciò che ti dico è sacrosanta verità. Il fatto che la tv e i giornali non ne parlino non significa nulla. Significa soltanto suffraga la mia tesi, quello che per il quale i poteri forti non hanno interesse che tu con la parola e con così tu te ne esca dal tuo problema o il tuo caro se ne esca. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e miei impegni. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di cesso del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla a chi gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di cesso del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio amico mio, amica mia, alla prossima del dottor Claudio Saracino. Ciao.